L'Icoris è il nuovo prodotto che ho disegnato per B-Line. L'idea era quella di trovare un connubio tra la mia metodologia progettuale e il dinamismo, i colori, la freschezza, la commestibilità di B-Line e di conseguenza con la sua eclitticità è capace di suddividere, accogliere, creare una sorta di cornice per gli oggetti che accoglierà. Dai libri ovviamente fino a vasi di fiori, terrine di frutta. Siamo i designers di Adam & Eve e Doc, i nuovi prodotti di B-Line che presentiamo quest'anno. Il fil rouge che lega questi prodotti è sicuramente l'ambivalenza. Doc, una mensola con una doppia funzione di ganci e svuotatasche. Adam & Eve invece è un progetto che si sviluppa su due prodotti. Abbiamo Adam che è un tavolo con un basamento centrale realizzato in stampaggio rotazionale. Se si ribalta questo piedistallo otteniamo un vaso perché lo stampo essendo modulare permette di ottenere con una piccola scambio di pezzi sia il vaso alto che il vaso basso e sia il tavolo alto che il tavolo basso. Siamo qui nel parco, il nuovo luogo per B-Line che è stato designato da us, Neuland Industriedesigni. Quindi abbiamo iniziato con questa parco che è stata inspirata da vecchia parco di franzo. È fatta di stile e è la prima parte di una collezione che dovrebbe essere un tavolo Maybe next year, we'll see. We're very satisfied with this first chair collaboration after we did some smaller pieces in the last years for Bayline.